Non un semplice cliente, ma un partner a cui dare ascolto. Perché in Labomar lavoriamo al tuo fianco, ascoltiamo le tue idee, insieme a te definiamo le giuste strategie commerciali e pianifichiamo il successo del tuo business. Lavoriamo ogni giorno per il tuo prodotto, curiamo ogni dettaglio, progettiamo pensando al tuo successo e al benessere del consumatore, perché la tua idea diventi un prodotto realizzato in sicurezza e con alti standard di qualità. Incontrandoti, elaboriamo la fattibilità del tuo progetto e con un'importante azione consulenziale trasformiamo le tue idee in realtà di successo per il mercato nutraceutico. Formuliamo i tuoi desideri perché si realizzino e con essi diamo forma al tuo successo. Produciamo compresse, capsule, liquidi, soluzioni estemporanee, polveri e soft gel con alti standard di qualità. Da sempre sensibili ai temi della salute, lavoriamo in sinergia per trovare soluzioni innovative in campo nutrizionale. Integratori alimentari, alimenti a fini medico speciali, cibi funzionali e medical devices. Da oltre 15 anni siamo al fianco del cliente per trovare soluzioni e dare risposte concrete. La tua soddisfazione è la nostra forza. Chiudiamo il processo nei giusti tempi, ma il nostro lavoro non si ferma qui. Saremo al tuo fianco anche dopo, nel post vendita, per verificare che il tuo prodotto sia vincente sul mercato, per dare ascolto alle tue nuove necessità, per modellare nuove idee. Labomar e Labomar Research, ogni giorno al tuo fianco.